Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, i fan italiani sono al settimo cielo, nei giorni scorsi si è sposato il numero uno, stiamo parlando del più grande di tutti i tempi di un personaggio che è nei cuori di tutti quanti noi. Prima di saperne di più vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 100 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. In questo video celebriamo il matrimonio del più grande portiere di tutti i tempi, Gianluigi Buffon, numero uno al mondo e leggenda vivente del calcio mondiale, riconosciuto all'unanimità come il più grande portiere di tutti i tempi, eroe indiscusso della spedizione che ci ha visto vincere il mondiale nel 2006 in Germania nei giorni scorsi e per la precisione. Il 28 settembre Buffon è convolato a nozze con la giornalista Ilaria D'Amico. Le nozze si sono tenute dapprima sulle colline di Lucca in secondo luogo. Ai Bagni la Romanina, a Marina di Massa, che sono di proprietà di Buffon, tra gli invitati, anche il CT della Nazionale, Luciano Spalletti. Ma in questo video vogliamo parafrasare le bellissime parole e la dedica che Buffon ha fatto a Ilaria D'Amico e ai loro figli. Siete il senso di ogni cosa, così scrive l'ex numero uno della Nazionale. Su Instagram un messaggio che ha toccato i nostri cuori. Auguriamo felicità, serenità e soprattutto amore a Buffon e Ilaria D'Amico. Cento di questi giorni, amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi anche sul secondo canale di Marco Liguori e sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale. Ciao!